Ciao Pioi, buona domenica. Ancora facciamo un dolce australiano che si è nato a Perth e va incominciata da Perth, perciò ne faccio uno in onore del Perth. Uso questa macchinetta qua, c'è un Black & Deca, Handy Mix, ha 40 anni e fa i corni che non si rompe adesso va bene Perciò se vedremo più tardi, ciao ciao! Eccomi qua, è pastrucciosa sta roba madonna ok però deve essere buona devo fare anche di sotto sennò non posso mettere la roba dentro va bene adesso devo fare quest'altra perciò devo aspettare ci vediamo dopo ciao Pioi eccomi qua adesso passo la seconda va bene, speriamo che ho abbastanza roba perché devo comprarmi sti sacchetti nuovi questi qua non già erano buoni ma non ho altra scelta però anche io adesso devo provare a vedere se posso fare il terzo va bene se vediamo dopo ok Pioi cerco di fare la terza ma farò un picco guarda perché se no non è meriva ho bisogno dei busi perché è dei busi che metto il frutto va bene dunque non stai impressionarmi se passi a su busi perché devo mettere il frutto va bene ok ecco adesso così ne vado ancora un poco su questa io sono un po' di più alta perché sia prima che va dentro e un po' anche qua perché noi butto via ok dunque se vediamo dopo mi devo fare la doccia adesso eccoci qua eccoci qua è fuori del forno adesso e adesso ne metto la crema in strati va bene perciò che avevo un pochettino di pazienza perché sapete che non ho la bustina pronta come che dovevo essere ok lo dovevo fare così io metto quest'altra io metto quest'altra pian pianino perché è molto molto delicata va bene così e metto ancora crema perciò dovrò fermarmi perché devo aggiungere altra crema va bene devo raggiungere altra crema perciò se vedremo fra poco che metto quest'altra crema dentro ok fiovi sono di ritorno pian pianin adesso metto un pochettino di più qua un pochettino di più là e poi metto quest'altra di sola va bene poco alla volta perché è molto delicata adesso metto questa e metto ancora crema e metto ancora crema un pochettino qua la voglio altra va bene dopo che mettiamo il frago e ecco che ho messo il frago e vi mostro come che ha finito va bene dunque se vedremo più tardi ecco adesso metto il frago e dopo che c'è un'altra rubetta che metto passendo al zucchero il zucchero camera risato perché voglio buttarlo di sopra come un velo va bene diciamo dovrei aspettare un pochettino perché questo quasi si è pronto per farlo e dovrò mettere ancora un pochettino di zucchero perché si deve camera risar e anche molto tempo va bene deve consumarsi il liquido che ha dentro prima che diventa un colore di oro va bene se non vedo niente devo mettergli ancora zucchero però non devo bruciarlo il zucchero ecco adesso lascio che boggia un pochettino quindi che se fa colorare dopo che mi cuore un pirone con il pirone e faccio come se vea un dolce Alla prossima. Alla prossima. L'ultimo. Adesso si è finito. Va bene? Ciao, buon appetito, buona domenica. Ok?